Siamo qui per commentare letture della Domenica della Divina Misericordia o Seconda di Pasqua, Anno A. Fioi disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Lei gli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Bene, Gesù era a porte chiuse, è stetto in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e metti la nel mio fianco, non essere incredulo, ma credente. Gli rispose a Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Prima lettura, dati degli Apostoli. Sapete, gli atti degli Apostoli sono un racconto, un diario, diciamo così, scritto da San Luca, di tutto quello che riguarda i primi fatti del cristianesimo, quindi è prezioso per noi perché da quello sappiamo esattamente come andava la vita dei primi cristiani. Siamo così poco dopo la Ressurrezione. Ecco, in questo caso, San Luca ci ricorda quelli che erano battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. Oh, quindi abbiamo una prima indicazione importante. I battezzati sono quelli che ascoltano le catechesi. No, è inutile essere battezzati e poi, oh, mai aperto la Bibbia in vita mia. Eh no. Qui invece ci viene ricordato che chi è battezzato ha il dovere, il dovere di istruirsi. Quindi oggi non è molto difficile, no, con internet, i mass media, eccetera, non è difficile trovare catechesi, istruzioni e tutto quant'altro in rete. Quindi è un dovere seguire le catechesi, istruirsi, no, confederarsi alla scrittura e alla spiegazione della scrittura. Perché la scrittura in sé non è un testo semplice, è un testo che ha duemila anni e oltre, quindi va interpretato, spiegato sempre nell'ambito, nell'alveo della fede cattolica. Dopodiché altra cosa che facevano i nostri cristiani era lo spezzato del pane. È un'espressione per dire che andava la messa. Però, sapete, non c'erano le chiese a quei tempi. Quindi i cristiani si trovavano, si radunavano nelle varie case dei credenti e lì celebravano la messa, diciamo, le prime messe spezzavano il pane. Poi facevano l'agape, quindi mangiavano insieme e tutto il resto. Altra indicazione erano assidui. Quindi nella catechesi, nell'ascolto degli apostoli, la predicazione, e nello spezzare il pane. E pregavano. La preghiera è così. L'acqua, il nutrimento spirituale, è quella che ci fa andare avanti. Ma preghiera personale o comunitaria? L'una e l'altra. Prego nel chiuso della mia stanza, come raccomanda Gesù, ma siccome chiesa vuol dire anche assemblea, ecclesia in greco vuol dire assemblea, ci vogliono entrambi i momenti. La preghiera personale nel chiuso della propria stanza e poi invece la preghiera comunitaria in assemblea. Quindi ambito le forme. Chi mi dice, ma tanto io prego in casa mia e il Dio è dappertutto, dico, no, un momento, aspetta. Se vuoi essere chiesa, membro della chiesa, c'è l'assemblea. Altrimenti che chiesa è? Se tutti stanno a casa loro, adesso non si può andare in chiesa perché sono chiuse, però quando riapriranno, speriamo presto, allora ci sarà l'assemblea liturgica. E' un dovere, è un dovere partecipare, ricordiamocelo. Dice ancora la scrittura, dice ancora gli nati degli apostoli, un senso di timore era in tutti. Dice come il timore, hanno paura questi qua? Timore, attenzione, timore in greco, diciamo così, è un senso di rispetto profondo, venerazione, quindi vuol dire che tutti quanti veneravano gli apostoli per i prodigi, i segni che avvenivano, quindi gente che faceva cose grandi. Dice come che adesso non facciamo più cose grandi? Si vede che la nostra fede, ahimè, si è affievolita, quindi tocca tornare a quei tempi, tocca ritrovare quell'età dell'oro così felice. Dice ancora, tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Uno dice, ma il comune cos'è il comunismo? Beh sì, una specie, quindi non è il signor Marx o il signor Engels che hanno inventato il comunismo, il comunismo l'hanno inventato i cristiani. Erano i primi tempi che succedeva che venivano messi i beni in comune, quindi nessuno era bisognoso, nessuno aveva bisogno, perché prendeva secondo quello che necessitava e nessuno si tirava indietro. Soltanto un paio di persone hanno cercato di fregare la comunità e hanno fatto una brutta firme. Comunque, quindi avevano i beni in comune, mettevano i beni in comune, proprietà e tutto il resto. Chi aveva dei fondi, chi aveva delle idee di immobile, addirittura vendeva queste proprietà e le divideva, divideva il ricavato con gli altri. Immaginatevi. Dice, ma com'è che oggi non si fa più così? Sapete, la comunità cristiana è cresciuta di molto, quindi a quei tempi erano pochi. Ci si poteva permettere di vivere in questo modo comunista, chiamiamolo così. Adesso è obiettivamente un po' più difficile, quindi esiste la proprietà privata, però ricordo che ci deve essere sempre questo afflato, questa intenzione di mettere in comune i beni che sono necessari, quindi ricordiamoci di condividere quel poco, quel tanto che abbiamo voi altri, altrimenti siamo cristiani soltanto a parole. e quindi ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio, giustamente non c'era la basilica, non c'era la cattedrale, c'era il Tempio, andavano nel Tempio a pregare, quindi come tutti gli altri ebrei spezzando il pane nelle case, quindi come dicevo celebravano la cena a casa loro, non nel Tempio perché non si poteva ovviamente, pigliavano cibo con Letizia, semplicità di cuore, magari noi cristiani fossimo più lieti, più semplici, più felici, insomma. C'era un grande filosofo, Friedrich Nietzsche, figlio tra l'altro di un pastore protestante, e diceva, era molto anticristiano, però le critiche ai cristiani erano puntuali e precise, diceva in pratica che perché lui potesse diventare cristiano bisognava che i cristiani sorridessero di più, fossero più lieti, più felici. C'ha ragione, insomma. Non è che sia molta grande testimonianza di felicità, di semplicità, eccetera, quindi cerchiamo di sorridere un po' di più, forse possibile. Certo, in momenti difficili come questi è difficile, in momenti difficili come questi è dura, essere felici, lieti e quant'altro, però insomma, cerchiamo di farlo, confidiamo nel Signore della Providenza e nella medicina e in tutto il resto. Pertanto, con questa semplicità e letizia, loro cosa facevano? Guadagnavano le favore del popolo. È una bella testimonianza, cioè questi stanno bene tutti quanti insieme, sono felici, non gli manca nulla, hanno tutto. È una bellissima testimonianza di cristianesimo. Riusciamo a farla anche noi? A volte sì, cerchiamo di farla di più perché c'è veramente bisogno e intanto il Signore aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati, quindi ogni giorno c'erano nuovi arrivi. Questo stile di vita era desiderabile, era una bomba, diciamo così, ai tempi. Questo vivere in comune, mettendo i beni, amando i nemici, perdonandosi a vicenda, era veramente una cosa inaudita nel senso positivo, nel senso buono. Seconda lettura, Pietro. Pietro è il Papa, quindi anche lui il Papa, da buon Papa cosa fa? Fa le catechesi. Notate che questa lettera, la prima, fu scritta ai tempi in cui cominciavano le persecuzioni contro i cristiani, quindi momenti difficili. Siamo alla terza generazione di cristiani, e quindi quelli che non hanno conosciuto Gesù. E allora cominciano appunto persecuzioni, cominciano difficoltà e dice però anche se non avete conosciuto il Messia, se avete sentito parlare di lui, siate comunque ricolmi di gioia. Perché? Perché la vostra fede l'ha messa alla prova. giustamente si dice che se una nave è costruita bene, deve passare una tempesta per dire che è costruita bene, se no, se non passa mai la tempesta, non sappiamo se questa nave è stata costruita secondo i canoni, i crismi e quant'altro. È la vostra fede. Deve essere messa alla prova purificata come l'oro. L'oro contiene l'impurità, quindi viene squagliato sul fuoco, sul crogiolo, e le impurità vengono separate e rimane l'oro puro. Ecco, questa è un po' l'immagine che usa Pietro per i suoi cristiani. E così anche la nostra fede oggi, credere oggi al tempo del virus, insomma, tanta gente dice ma perché il Signore l'ha permesso? Perché il Signore? Perché? Perché? Evidentemente è una prova che il Signore permette per farci crescere, per farci imparare qualcosa di particolare che altrimenti non avremmo imparato. Molto probabilmente il mondo dopo sarà diverso, speriamo migliore, dopo questa crisi del coronavirus. Ecco allora quanto sono attuali queste scritture, queste parole per noi oggi. La nostra fede ha messo la prova in modo sostanziale, dice, ma... perciò conclude ancora con la gioia esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza. Non dimentichiamolo mai, lo scopo della nostra vita è la salvezza dell'anima, non perdere, non perderla, anche se guadagniamo il mondo intero e perdiamo l'anima, dice San Paolo, è una bella fregatura, diremo noi oggi, no? Quindi ecco, stiamo attenti a tenere sempre lo sguardo su quel obiettivo, la salvezza dell'anima. Vangelo entra in campo Tommaso, detto Didimo, il gemello in greco. Tommaso non fa una bella figura nel Vangelo di Giovanni, è quello un po' così, un po' pauroso, a un certo punto Gesù dice devo andare a Giusalemme, eccetera, eccetera, e lui risponde va bene, andiamo a morire anche noi. Insomma, un po' un po' fifone. Un'altra volta Gesù dice dove io vado voi non potete venire e lui risponde ma signore non sappiamo neanche dove vai, come possiamo venire con te? Quindi, un po' scettico anche così, un po' sfiduciato. quindi ecco, di per sé come figura non è questo grande, ma tutti gli apostoli, guardate bene, tutti gli apostoli prima o poi fanno degli errori, non erano questi campioni della fede che uno pensa, però sono persone che poi alla fine hanno guadagnato la salvezza abbondantemente. Non erano i migliori, ecco, questo voglio dire, però gente che il Signore ha scelto per motivi suoi. e allora cosa fa? Non crede alla Ressurrezione, dice, questo è un tipico modo di fare greco, dei greci, ma i greci, la filosofia greca non poteva neanche pensare che un cadavere tornasse in vita, evidentemente Tommaso, detto Didimo, il nome greco, era influenzato dalla filosofia e dalla cultura greca, dice, figuriamoci se un cadavere torna in vita, non esiste, insomma, non mi state a prendere in giro. Quindi dice, voglio vedere, voglio mettere il dito, toccare, insegna la passione. Detto fatto, il Signore torna e dice, va bene, allora, non credi, metti qua il dito. Non c'è scritto che Tommaso mette realmente il dito, evidentemente gli basta vedere davanti il Signore risorto, non ha bisogno di toccare, ci sono alcuni quadri molto belli in cui Tommaso è raffigurato proprio toccando le piaghe di Gesù, e invece dice la cosa più bella che si potesse dire mio Signore, mio Dio, riconosce davanti a lui che è realmente il Messia, però ha avuto bisogno di un segno, ha avuto bisogno di vedere, beati quelli invece che credono senza avere visto. Semplice. io mi preoccupo un po', vi dico, quando la gente mi dice ma io vorrei vedere un segno, vorrei che il Signore si manifestasse, vorrei che si facesse presente in qualche modo, avere... Gesù non tratta bene quelli che vogliono i segni, vi ricordate, no? Non vi darò nessun segno se non quello di Giona, cioè la Ressurrezione, e attenzione anche a tutti gli altri decini e decini di veggenti, mistici, questa gente che dice di avere i messaggi da Dio, da Gesù, Madonna, San Michele, Arcangelo e tutto il resto, che vuole vedere i miracoli a tutti i costi, no? no, non è una fede bella, non è la fede del vedere il segno se no non credo, altrimenti, che fede è? La fede, quando si crede qualcosa, sulla fiducia, senza aver visto, abbiamo invece la prova tangibile, vabbè, che fede è? Ecco allora, attenzione a correre dietro a tutti questi segni, a queste richieste, spasmodiche, del sopranaturale, del miracolo, di tutto quanto, cioè quello che serve nel Vangelo, basta e avanza, direi, non c'è bisogno, poi se la Madonna vuole apparire, se vuole manifestarsi nel tutto il re, per carità, una gioia del cuore per tutti noi, però ecco, non cerchiamo a tutti i costi il segno. Allora, quindi questo è, quindi, in pratica, fare l'esperienza del risorto, l'esperienza del risorto si fa dove? In assemblea, in chiesa, io sto a casa per conto mio e prego, dici, vabbè, ma l'eucaristia, quando si può, ovviamente adesso, ripeto, non è possibile, ma quando si potrà, speriamo presto, sì, bisogna fare l'esperienza del risorto, dove? in chiesa, in assemblea, e ma l'assemblea poi c'è gente che chiacchiera, che sparla, che dice, che fa, che giudica, perché allora questo tu non è un giudizio quello che stai dicendo, no, e allora, attenzione, andiamo in chiesa per il Signore, non per la gente, non per il prete che è simpatico, antipatico, sa predicare, non sa predicare, insomma, è lungo, è corto della predica, vabbè, ecco, allora, dice, conclude l'evangelista, Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti, ma non li fa perché devono credere, li fa perché sono segni della sua gloria, li fa perché è risolto, li fa perché è il Signore, non servono a noi per credere, no, io dico sempre, il miracolo di per sé non serve, perché chi ci crede già ci crede, e chi non ci crede continua a non credere, perché dice, ma sì, ma figurati, sarà un evento naturale giù a spiegare, no, cose, figuriamoci, guarigioni, perché adesso non lo sappiamo, un giorno capiremo perché è guarito, queste cose qua, per cui, sono semplicemente manifestazioni di gloria del Signore, per questo ci sono i segni, chiama segni, non miracoli, i segni, quindi qualcosa che segna, oggi è anche la domenica della mia misericordia, seconda domenica, prima dopo Pasqua, insomma, la seconda domenica del tempo pasquale, e, vabbè, conoscete brevemente, immagino, per sommi capi la storia di Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska, che aveva parecchi problemi, devo dire, con le conferenze episcopali polacca, adesso invece è santa, per cui, dichiarata santa, e, che succede? Che, ci sono delle forme di devozione particolari, e questa è oggi, appunto, la festa della Viglia Misericordia, per cui vale la pena ricordare quali sono queste forme di culto, di devozione alla Viglia Misericordia, intanto, prima azione, che il devoto della Viglia Misericordia dovrebbe fare, venerare l'immagine di Gesù Misericordioso, quindi, averla in casa, esporla, diffonderla, farla conoscere, sapete, quella immagine in cui Gesù ha i raggi, uno rosso e uno azzurro che partono dal suo petto, il rosso è il sangue e l'acqua, l'azzurro, quindi, sacramenti, Eucaristie, Battesimo, eccetera, quindi, quell'immagine dipinta, secondo indicazioni di Santa Faustina, proprio da un pittore che riportò fedelmente su tela quello che lei vide, insomma, questa immagine di Gesù Misericordioso. Poi, secondo la festa, oggi è la festa della Divina Misericordia, quindi, festeggiamo, ricordiamoci, facciamo memoria, istruiamoci, leggiamoci magari un po' della vita di Santa Faustina, ripeto, in internet, si trova molto, materiale, video e quant'altro. La recita della coroncina della Divina Misericordia, consigliata, Lettera del Pomeriggio, anche questa si trova abbondantemente in rete, ci sono programmi televisivi che la trasmettono a Lettera del Pomeriggio, quindi, ci si può unire utilmente a questa pratica. L'ora della Divina Misericordia, è un'ora particolare in cui si è invitati a fare memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, per un'ora. Anche questa, in pomeriggio, se è possibile, recitando la Via Crucis, quindi, o la coroncina o la Via Crucis, ecco, fare memoria di quest'ora della Misericordia, diffondere il culto, invitare la gente, prova, diciamo, insieme alla coroncina per dire, vieni a sentire la Messa della Divina Misericordia, eccetera, eccetera, la Novena della Divina Misericordia, tutte queste cose. E questo è anche l'Apostolato, quindi, diventare Apostoli della Divina Misericordia. Il merito è molto grande, dice Suor Costina, quindi, impegniamoci, ripeto brevemente, venerazione dell'immagine, quindi, averla in casa e esporla, festeggiare la Divina Misericordia, oggi la festa, appunto, questa festa, recitare la coroncina della Divina Misericordia più spesso possibile, magari non tutti i giorni, anche se non si riesce, però, ecco, farlo più spesso possibile, l'ora della Divina Misericordia, quindi, far memoria della Passione, morte e l'Essurrezione, la Via Crucis, va benissimo, come ricordo, diffondere il culto e diventare apostoli della Divina Misericordia. Queste sono le azioni che Suor Faustino ha chiesto ai fedeli, quindi cerchiamo di farlo in tutti i modi. Allora, riassumendo il messaggio di oggi, abbiamo detto a prima lettura il comunismo cristiano, così vi rimane in mente, perciò mettere in comune quello che si ha, condividere, quello che abbiamo, quel poco, quel tanto, in modo che nessuno abbia bisogno, ricordiamocelo, seconda lettura a San Pietro, e dice non avete visto, credete però, senza aver visto, il premio sarà molto grande, la vostra fede sarà purificata come l'oro nel crogiolo, quindi, no, abbiate fede, credete, senza bisogno dei segni, non servono i segni per credere, c'è il Vangelo, c'è la scrittura. Tommaso, il dubbioso, in fondo siamo tutti un po' Tommasi, no, quindi tutti quanti vengono dei dubbi prima o poi, soltanto lui li ha espressi in modo così, abbastanza chiaro, abbastanza aperto, vertis verbis, e poi però dice la cosa più bella che si possa dire mio Signore, mio Dio, perché ha visto? Allora, se non riusciamo a dire mio Signore, mio Dio, senza aver visto, magari, no, magari, riuscissimo a farlo, saremo veramente al top, come si dice oggi, e poi appunto la Divina Misericordia, secondo quanto detto, diventiamo apostoli, veneriamo l'immagine, recitiamo la coroncina, facciamo memoria della Divina Misericordia, l'ora della memoria. Grazie per l'ascolto e la pazienza, Dio vi benedica, alla prossima, speriamo, tempo di virus, non si sa.